La vostra mente è come una bacchetta magica che dà forma alla vostra vita. Ogni pensiero, convinzione e obiettivo che avete, è come un filo di un grande disegno. Avete più potere di quanto pensiate per far accadere le cose. È quindi importante prestare attenzione a ciò che si pensa e si crede. Quando lo fate, potete creare la vita che desiderate. Credete nel potere della manifestazione, perché i vostri pensieri hanno la capacità di plasmare la vostra realtà. Quando avete un'intenzione chiara, e allineate le vostre azioni ai vostri desideri, mettete in moto una catena di eventi che vi condurrà verso i vostri obiettivi. Abbiate fiducia nel processo e nella vostra capacità di creare la vita che immaginate. L'universo risponde alla positività e alla determinazione. Quando seminate i semi della positività e della determinazione, osservate come l'universo cospira per portare a compimento i vostri sogni. Coltivate la gratitudine per ciò che già possedete, e osservate come le vostre benedizioni si moltiplichino. Praticare la gratitudine come rituale quotidiano. Prendetevi del tempo ogni giorno per riflettere sulle benedizioni della vostra vita, per quanto piccole possano sembrare. La gratitudine è una potente calamità per l'abbondanza, che attira altri motivi per essere grati della propria esperienza. Spostando l'attenzione da ciò che manca, a ciò che è presente, vi aprite a ricevere più benedizioni in cambio. Ricordate che ogni pensiero che fate sta plasmando il vostro futuro. Sfruttate il potere dei vostri pensieri per attrarre la vita che desiderate. Scegliete con saggezza, perché la vostra mente è l'artefice ultimo del vostro destino. Quando iniziate a comprendere il potere della vostra mente, vi rendete conto che non siete vittime delle circostanze, ma creatori della vostra realtà. Ogni pensiero che intrattenete, ogni parola che pronunciate, inviglia vibrazioni che plasmano il mondo intorno a voi. È come piantare semi in un giardino. I pensieri che coltivate finiranno per sbocciare nelle vostre esperienze. Quindi, fate attenzione ai semi che seminate, perché saranno loro a determinare il raccolto che otterrete. Mentre navigate nella vita, ricordate che le sfide non sono blocchi stradali, ma trampolini di lancio per la crescita. Accoglietele con coraggio e resilienza, sapendo che ogni ostacolo superato rafforza il vostro carattere, e vi avvicina ai vostri sogni. Circondatevi di positività e ispirazione. Scegliete saggiamente la vostra compagnia, perché l'energia di chi vi circonda, può sollevarvi o trascinarvi verso il basso. Cercate dei mentori che abbiano percorso la strada che aspirate a percorrere, e imparate dalla loro saggezza. Nutrite la vostra mente con libri, podcast, e conversazioni edificanti, che accendano la vostra passione e alimentino la vostra ambizione. Praticate la visualizzazione e le affermazioni, per rafforzare i vostri obiettivi e le vostre convinzioni. Vedete voi stessi vivere la vita che desiderate con chiarezza e convinzione. Ribadite quotidianamente affermazioni positive, che confermino il vostro valore e la vostra capacità di realizzare i vostri sogni. Allineando costantemente i vostri pensieri e le vostre azioni alle vostre aspirazioni, creerete una forza magnetica che attirerà verso di voi il successo e l'abbondanza. Coltivate la pazienza e la perseveranza nel vostro viaggio. Roma non è stata costruita in un giorno, e nemmeno i sogni si realizzano in una notte. Rimanete fedeli alla vostra visione, anche di fronte a battute d'arresto e ritardi. Confidate nei tempi dell'universo. E continuate a intraprendere azioni ispirate verso i vostri obiettivi. Tenete presente che ogni piccolo passo che fate, vi avvicina alla vostra meta. Inoltre, restate aperti alle opportunità inaspettate, e agli incontri fortuiti. L'universo è in grado di orchestrare gli eventi a nostro favore, spesso nei modi che meno ci aspettiamo. Siate flessibili e adattabili nel vostro approccio, disposti a esplorare nuove strade, e ad accogliere i cambiamenti. Ricordate che il percorso verso il successo raramente è lineare, ma è sempre pieno di tesori nascosti e lezioni preziose. Ricordate che i vostri pensieri sono potenti. Possono migliorare o peggiorare la vostra vita. Pensando positivamente e credendo in voi stessi, potete attrarre cose positive nella vostra vita. Rimanete concentrati su ciò che volete e non arrendetevi, anche quando le cose si fanno difficili. Con la giusta mentalità, potete creare la vita che sognate. Quindi, andate avanti, credete in voi stessi e guardate come i vostri sogni diventano realtà. Vi vogliamo bene, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. A.O., Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.